o no? ha detto il dottore che tocca fare delle robe cosa fa? dei movimenti per vedere se era guadagnale o no l'occhio dell'operazione allora se lo vuoi fare bene, se no a me mi frega niente e poi via ma davvero come dirci cosa fa? testa del cazzo allora che da fa? e ora c'è scritto di qui viene qua che tocca farlo una volta fatto ebbè non so i primi giorni dell'intervento bisogna fare l'occhio perché? per rimalutare la transazione destra e la sinistra tu dove sei operato? al sinistro? al sinistro ok quindi devi stare le braccia tese giù fa così che senti? ma fa mal di qui il collo ma non è per via di quello non è per l'occhio? no 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 muove la testa in avanti così che ti senti? niente sei sicuro? sei sicuro? non è dal dottore ti ho detto che non sento niente nooo adesso braccia alti abbassa alza abbassa alza che senti? niente manca un formicolio anaterico si sta lucendo senti o no? sento niente qui? vabbè con calma questa calma non ti arrabbiare adesso fare un soffio a destra allora adesso ti devo soffia sull'orecchio mi devi dire se senti il fastidio va bene? si non farei come meglio fermi fermi ti ha fastidio? no adesso? no adesso? no adesso? adesso soffia dal cazzo no aspetta allora a destra va bene a sinistra va bene? meglio? eh va bene? eh così? eh va bene o no? va bene va bene va bene va bene va bene va bene circolazione va bene lo spostamento pure l'udito abbastanza bene adesso bisogna guardare il forbicolio in che senso? tieni le mani stesse stesse trema con le mani eh? trema le mani quale te trema di più? la me quella non ha trovato le gambe eh 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 no dai va al serio per il dottore ma tu a me ma trema niente tieni così pari eh 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 no dispari pari come andai pari? pari adesso il trema guarda si sta guarda 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 domani ti vedo come guarda quante l'amore agire さ addicolazione non vuoi de l'accarnezzamento scappellato. Allora adesso bisogna vedere se i nervi della bocca vanno bene. De qui? Della bocca. Va bene, va bene. Portami da mangiare che ti puoi vedere. No, fa il serio. Ma c'è scritto, fa così. No, no, così. Dai. Basta, quanto va a fare? Va bene, però che gli dico dal dottore? Dì che mi ha rotti i coglioni. Allora va bene, non c'è la macella. Non c'è niente, io lo so troppo bene. Sgargamella, bene la macella? Uh, dammi la mangiatella. Ma sgargamella o no? Tu dammi un piatto di tagliatella che ti fa vedere. Tocca lì dal dottore se sgargamelli o no? Ma quel gargamello, quel gargamello. Sgargamelli o no? Ma li mangio. Sgargamelli? Sì, 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 sì. Allora sgargamellamento va bene. Adesso, ultima cosa. Ultima cosa bisogna fare. Sì, vabbè, vabbè. Fammi una ultima cosa. Sì, sì, falla, falla l'ultima. Fammi che ti dobbiamo fare. Dunque, ragazzi, questo è stato molto importante fare questi test. Li ripeteremo giorno dopo giorno. Siete d'accordo? Anzi, se ci avete qualche consiglio, iscrivetevi sotto questo video, ok? Vero o no? Dovevano scrivere. Què c'è? Dovevano scrivere. Ma qui scrivi, qui scrivi? Dovevano scrivere. Ma che ne sovi? Dimmi dovevano scrivere. Oh, te l'è fanculo? Tu e lui. Nooo. Nooo. Al prossimo video.